Una dimora artistica nel convento di San Giovanni di Capestrano che si animerà con eventi internazionali nel biennio 2024-2026. L'iniziativa rientra nel progetto Le Terre del Guerriero, realizzata dal patnariato pubblico-privato composto dal comune di Capestrano, varie università, il BOSSO e altri partner. Il BOSSO è capofila dell'iniziativa, il primo evento a carattere musicale, è già iniziato, terminerà il 7 settembre in collaborazione con la Chicago Jack's Philharmonic, diretta dal maestro Orbert Davis, trombettista di fama internazionale con la collaborazione del maestro Carlo Morena e del conservatorio Casella. Quello di Capestrano sarà il primo evento sul Teard Stream in Italia. Lui si sente a casa perché è cresciuto in un piccolo villaggio di 3.000 abitanti, quindi appena è arrivato a Capestrano, ha visto questo piccolo bellissimo villaggio, si è sentito a casa. Lui è molto orgoglioso di presentare questo progetto qui in Italia perché la musica che lui compone e suona è un mix di jazz, quindi musica afroamericana e musica classica. Quindi lui è molto orgoglioso di portare questa musica qui in Europa. Noi speriamo vivamente che sia un grande arricchimento. Capestrano è un posto storico, piccolo, ma jazzisticamente nuovo, quindi speriamo di seminare bene. Questo è un progetto di tre anni, quindi speriamo di cominciare bene. Un percorso musicale che inizia e che proseguirà negli anni per far diventare Capestrano la capitale italiana per il Teard Stream. La collaborazione tra il Bosso e la Chicago Jazz Philharmonic è stata avviata nel 2022 grazie a un professionista in management musicale, Coco Bucci, che vive da 30 anni in Eiusa. L'edizione 2024 si concluderà con un concerto finale nella piazza di Capestrano con l'esibizione del maestro Devis assieme alla Big Band del Conservatorio Casella, diretta dal maestro Massimiliano Caporale. Abbiamo avviato questa collaborazione nel 2022 con la Chicago Jazz Philharmonic grazie alla presenza anche di una conoscenza che risiede lì a Chicago, che è Coco Bucci, che ci ha dato una mano nel portare avanti questo rapporto con loro. Per la prima volta quest'anno abbiamo in Italia il maestro Orbert Davis che si avvierà questo progetto con una serie di workshop, ma anche concerti diffusi nel borgo di Capestrano.